Siamo con Ivona Matic di Bolzano, basket club Bolzano, questa sera esce sconfitta dal parquet di Villafranca, un tuo commento sulla vostra partita di questa sera? Allora abbiamo partito la partita con la concentrazione che era ovviamente mancata, poi abbiamo continuato con le nostre cose perse, le palle, i passaggi, poi con il nostro playmaker Servillo che mancava oggi abbiamo difficoltà con il nostro gioco. Sicuramente il livello di differenza tra Alpo e voi si è visto, seppure voglio dire in alcuni momenti voi avete reagito e Alpo forse se non perdeva la concentrazione forse si sarebbe messo un po' in difficoltà. Sì, Alpo è una squadra molto forte, una differenza tra di noi, però sto dicendo che abbiamo perso la concentrazione dall'inizio e con la nostra playmaker che ha mancato, loro hanno preso a parte suo anche per finire in modo migliore per loro. Bene, io ti faccio l'in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Grazie. Ciao.